L'Italia, voglio dire, è una dimensione economica talmente diversa, l'Italia è la Grecia, non è che possiamo fare questi paragoni, quindi per l'Italia sono tranquillo, però è per l'Europa che non sono tranquillo, insomma, o noi ci mettiamo assieme e contiamo qualcosa o scompariamo totalmente dalla storia del mondo, questa è la verità.